Trambusto in questura l'uscita degli arrestati dell'operazione Malanova. Nonostante la presenza degli agenti della polizia di stato, amici e familiari dei tre rapinatori, si sono avventati contro i fotoreporter e i videogiornalisti intenti nelle riprese. Aggressione con spintoni e botte. Per uno degli operatori danni anche l'attrezzatura. Giorno, non si sape la grava! Giorno, non si sape la grava! Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.